Poi c'è Knight che per me è emile italiano, veramente forte con il ragazzo, qua c'è Knight e poi ci sono gli altri, per me tecnicamente sì raga, è innegabile, poi magari io ti dico in macchina mi ascolto di più Jake perché mi rappresenta di più, però non posso dire che Knight è il più forte per me, ce ne sono altri che sono forti, non metto in dubbio che Marra, Lazza, Giulier, questa gente sia veramente forte, ma io dico tecnicamente quello che fa Knight non lo senti fare dagli altri, il tipo di incassi e di extra beat così scanditi bene, chiari, perché è anche facile fare extra beat e non capisci niente